Buongiorno signori, questa è la mia fornarina. Guardatemi qui cosa ha tirato fuori. C'è il buongiorno, c'è il dal mattino, oggi sarà bellissima giornata. Un posto veramente incantevole. Aspetta non c'è di 50 milioni di griglini. Ancora, qui si fa, che bucina qua. 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 Andiamo giù in ferrata, buttiamo giù una cosa da qui e poi andiamo giù. L'erobio lo farebbe. Può essere. Eccola, buongiorno signori, questa è la mia fornarina. Guardatemi qui cosa ha tirato fuori ieri. No, non è grande, non è molto grande, ma è grande. Se è il buongiorno, se è il buongiorno, oggi sarà bellissima giornata. Ebbene sì, dopo aver fatto una bella dormita, una bella giornata di lavoro dove eravamo prima, ora, adesso in direzione Peschici. E ho trovato un bel palettino in centro, due passi a Peschici e poi ci cominceremo ad avvicinare sempre di più a casa. Per la gioia di tanti, ma non so se per la nostra. Comunque dai, ci vediamo a Peschici. Siamo arrivati a Peschici. Adesso cerchiamo un buon caffè e questo è l'ingresso della zona vecchia. E' un buon caffè. Vedi, fase un restaurante. Grazie a tutti. Un po' piove. Piove, pensare che due minuti fa stavo facendo acqua. Per fortuna che ho finito in tempo. Un po' piove. Un po' piove. Un po' piove.